e bella a tutti ragazzi qui Wolf e Jacopo me qua siamo tornati con un altro gameplay di Black Ops 2 tanto non abbiamo niente di meglio da fare esatto proprio tranne quando ci sarà la grande serie dedicata interamente a Spongebob che però vabbè siamo affinati di bimbi inizia esatto ma non tutto normale no cioè come al solito a parte stefan kaos che stavolta è successo che praticamente è morto perché l'ha ucciso un creeper è esploso ecco adesso la tvd ex one è diciamo diverso rispetto a quello che faccio di solito infatti sto usando il dsr 50 con mieno a con caricatore rapido poi volo su quelli classici quindi un flessibile prestigiatore e ingegnere ha un secondario 23 e poi ho l'assolo dei 3 7 che penso non usavo mai non volevo chiedere è solo che ho guardato il microfono pensando con l'orrore che forse è spenta molto intelligente ho 6 uccisioni wav dono d'assalto e appoggiunamento alle 6 uccisioni quelle vecchie tutte le solite stronzate adesso che abbiamo parlato le solite stronzate che non guardano i commentari per sentire wav fai con tutti sti pallononi qua sti pallonacci qua che la scuola non te ne insegnano neanche guardano un pof quasi di fiatmiscope non lo sanno al contesto esatto ecco giusto per questo vi consigliamo un video che abbiamo trovato su internet un paio di video in cui un ragazzo ha filmato nascosto la propria lezione a scuola l'inglese durante il quale vi chiede gentilmente a prof cosa vuol dire il servizio veramente consigliato poi ne faremo uno anche noi magari in cui lo chiediamo alla nostra prof che puristamente si perché uno è troppo intelligente quindi lui farò scientifico io faccio un istituto industriale si stefan caos abbiamo già detto è stato ucciso da un creeper che è esploso questo per anche per introdurre che a breve finalmente abbiamo scaricato minecraft cracca ma no perché 20 euro molestamente sono troppi per un gioco a cubetti non so sembra quali io che volevo giocare a battle play for free perché non sapesse c'è battle fee gratis quindi non mi era d'accordo secondo me a farlo comunque non funziona mi dice che non sono l'amministratore del computer quando lo sono fatto è l'unico è tutto una scusa ma sono l'unico che lo usa cioè no no ma è tutto una scusa fatta apposta dalla IE per non partire da gratis vabbè adesso no qua non so si comunque adesso partiamo qua anche delle granate mp ora contro gli umani soldatini sono inutili perché voi avete un'arma automatica che evitate sparare mi dà la storia del colpito a essere aggiustate un po' non è che serve un genio a sparare qui non serve a niente serve con le torette robot guardia tutto quello schifo che c'è qua quando viene stefan caos facciamo tenere a lui il microfono però eh oppure gli facciamo comprare un coso per leggerlo cazzo ma dovevi farlo te eh dovevo costruire io un algeggio per questo microfono vabbè continuo va che è una merda qua non abbiamo i soldi siamo proveracci e dobbiamo arranzarci e così avanti no vabbè facciamo stare infatti qui e poi ci dovremmo anche decidere ah no è vero abbiamo ancora posto in giro comunisti i capitali ma già è vero è vero è vero stavolta non l'abbiamo fatto dopo il successore nell'altro video no ma sta tranquillo che me ne ricordavo quindi ragazzi assolutamente noi ve lo diciamo in sto video qua non è razzista veramente merda sti comunisti eh con schiavola sti comunisti no assolutamente no ragazzi mi raccomando è molto importante nella vita non drogatevi non fatevi le canne cercate ad andare bene a scuola questo è quello che vi diranno i vostri genitori ecco io adesso abbiamo fatto il nostro servizio alla comunità sennò poi ci stufano perchè youtube non insegna niente esatto perchè i tg insegnano qualcosa vabbè oggi come potete vedere siamo molto simpatici no però è vero adesso mi stavo chiede un'altra cosa ecco perchè è larga facciamo stare però è vero se voi ricordate ragazzi date a cercare su internet quando era uscito gta 4 c'erano stati tutti tg1 che aveva detto che era colpa sua delle storie su gta sto seguendo tg2 studio aperto e non l'hanno ancora detto poi ho visto tg1 quindi secondo me l'hanno detto nel tg1 si ecco poi magari su tg4 c'è Emilio Fede ma non c'è il teatro poveretto nooo era il mio preferito mi piaceva troppo vedere il suo iphone mettete il tg870 mcs che c'è sempre ci deve essere mcs microsoft no 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 è un messaggio subliminale mcs microsoft comprate microsoft ecco esatto bravi mi raccomando ragazzi non piratate windows come abbiamo fatto tutti noi mi raccomando ecco ma che c***o ma io non l'ho piratato c'era già dentro quindi si no lui no io neanche è solo sui computer della scuola che sono piratati ma perchè lagga? a proposito di lag se giocate a minecraft tra un po' inizieremo a fare gameplay anche di sto giochetto qua di merda che lagga da me un pochino soprattutto in multiplayer eh sarà serve attiviamo noi qua naturalmente noi seguiamo i consigli stefan karl ecco noi giochiamo in serve molto divertente dove si compra e si vende la droga solo che praticamente la droga la rubiamo nelle case degli altri e dopo che abbia rubato tutta la droga moriamo non si sa perchè boh ci sono i creeper più ci sono gli zombie ci sono gli zombie che rubano le spade a qualcuno ti inizia a tirarti addosso le spade dei granati sono gli zombie secondo me sono gli zombie di Black Ops 2 sono stufati di essere appresi non shottati col DSR succede ogni tanto guardate anche minecraft è un gioco di guerra non sembra proprio attenzione va che risultatore 225 vabbè non sta urlare cecchino ah beh ecco giusto ci avevamo dimenticati doppio doppio video stavolta che bello un duchetan sempre che così almeno ci mettiamo quattro ore a caricarlo con la connessione qua che ha volto vabbè l'italia comunque casi l'arma mp7 caricatore aumentato silenziatore mirinolografico poi quello lì che è il triplo se mi ricordo martedì da tre accessori peraltro b23r poi mi sembra il buono che sono sempre gli stessi anche i sedi uccisioni siamo molto classici oggi b23 mi sembra col caricatore aumentato voi lo sapete questo qua l'avrò l'ho già stato prima delle vacanze notati soprattutto la barretta dei comandi adesso divertitati ecco qualcuno qua si è dimenticato di toglierla vabbè uno mi va bene anche no non è vero io poi giocherò faremo un gameplay in cui giocherò soltanto io e vedremo quanto sono bravo è vero è vero molto comunque ragazzi adesso penso fa 1 o 2 settimane sicuramente spero K40 vabbè lasciamo stare comunque fra qualche settimana spero prima di che arrivi la beta di Battlefield 4 dove ho preso il premium quindi un bel live non ce lo toglie nessuno farò un bel penso un live su Battlefield company 2 però ho avuto qualche piccolo problema a recuperare il malnone anche cos'è chiede il video registratore? e a breve oltretutto spero se riusciamo a trovare il gioco di Max Maxum non mi ricordo più come si pronuncia come si dice c'è un gioco molto divertente di un ragazzino che va in giro e crea gli oggetti con delle facoltà magiche per aiutare la sorellina stregata lo scaricheremo spero di riuscire a trovarlo a qualche parte faremo un commentario su di lui in quattro puntate in cui finiamo il gioco e vi facciamo vedere quanto è divertente sta già con la bimbo io ho un epic fail la partita lo devo fare com'è che si chiama il nostro gioco? Infinity? non mi ricordo più vabbè la prossima volta torniamo con un gioco di Maxum Maxum non so dobbiamo decidere in realtà questa qui è un'idea mia non l'ho ancora proposta a Wolf che la propongo ora poi quando vedrà di che gioco si tratta e vedrà i video che hanno fatto gli altri canali rivali vedrete che anche lui accetterà molto volentieri di fare sta roba lo immagino se sono i normali di raccomandini un po' si si esatto proprio ora volete vedere come sfruttare il filtro il filtro linee d'asfalto che c'era quello che c'era vado a bastare 3 per vostro vantaggio visto che tutti tutti cercheranno di farlo fuori e voi potete ammazzarli normalmente ecco qua l'MP7 naturalmente spara anche attraverso il ferro che fai? no niente lasciamo stare sapete che gli ho poco mio di tanto ha le sue sono dettagli tecnici ecco esatto tanto per tenere vivo le cose su Johnny Creek però nessuno ci ha detto perchè non cambiate il titolo nello scorso come avrete notato la sigla introduttiva è ancora in quest'ruzione e lo dovrebbe fare Jacopo dovrei farla io ma quando gioco Minecraft sdrogo e quindi praticamente adesso io sono convinto che Johnny Creek infatti resto comunque Johnny Creek ci denuncerà per questo robo totale con il nostro pochino la denuncia a Jacopo mi per diffamazione non si sa poi a te ecco non facciamo nomi perchè sennò poi ci denuncia per davvero il grigio per diffamazione ragazzi siamo quasi giunti alla fine facciamo il conto rovescio perchè questo video qua non vediamo l'ora che finisca facciamo stare intanto salutiamo ecco tutta pubblicità si quindi bella la wolf e Jacopo mi ragazzi il punteggio finale va che romano merda tutto